Realizzato in occasione della Festa della Liberazione, il progetto Vitrine alle Radici della Democrazia espone opere delle artiste Paola Antichè, Elena Ladilova, Sara Enrico, Ludovica Carbotta e Daphne Boggeri. I lavori rimarranno visibili fino al 9 giugno in cinque luoghi simboli del Piemonte. A Torino, Palazzo Lascaris, alla Galleria d'Arte Moderna e al Museo Diffuso della Resistenza, a Cuneo, al Centro di Documentazione Territoriale e a Verbagna, a Fondotoce, alla Casa della Resistenza. In un momento come questo pensare alle Radici della Democrazia significa anche confrontarsi con una realtà che non è solo storica ma anche attuale. Sono cinque artisti che per un anno lavorano in collaborazione tra Consiglio regionale e Galleria d'Arte Moderna per pensare a modelli espositivi, a nuovi linguaggi che non siano solo commemorativi ma che rappresentino un vero modo di lavorare intorno ai temi importantissimi e fondamentali come le Radici della Democrazia e come la nostra storia.